C'è la possibilità di trovare i voti in aula. Cirinà poco fa diceva che andiamo in aula e i voti li troviamo perché è una legge di civiltà. Esatto, quello andrà fatto. Poi il Parlamento, questo Senato, si prenderà la responsabilità alla fine del percorso di dire che si fa una legge così, si fa una legge così, si fa una legge così. E chi l'ha votata e chi non l'ha votata sarà sotto gli occhi di tutti, sarà giudicato dalla storia.